Fismic in assemblea al centro sociale per rilanciare la vertenza Irisbus. Il segretario Giuseppe Zolino si dice preoccupato per i ritardi nell'approvazione della Cassa Integrazione Estraordinaria e chiede chiarezza sul rispetto degli impegni in vista dell'appuntamento del 4 marzo in città quando in Confindustria arriveranno l'amministratore delegato di Industria Italiana Autobus del Russo e il capo del personale Moretti. Sono trascorsi già due mesi dall'inizio di questa nuova avvendura industriale, Industria Italiana Autobus e attualmente lavorano otto persone dentro una fabbrica vuota, completamente vuota, senza impianti e fuori ce ne sono altri 290 che aspettano di andare a lavorare. Non c'è ancora l'approvazione della Cassa Integrazione, non si vedono l'inizio degli investimenti promessi, c'è una condizione di disagio e in controaltare abbiamo l'altro stabilimento di questo nuovo gruppo, quello di Bologna, la EX Menarini che lavora alla grande, che lavora a pieno ritmo e ha lavoro anche per l'esterno, mentre noi qui abbiamo 300 persone fuori. Se a Flumeri sono impiegate poche unità, a Bologna la Breda Menarini lavora a pieno regime e Zorino propone che parte del personale di Flumeri sia trasferito nello stabilimento emiliano. Mandare su 30, 40, 50 persone in trasferta può essere l'inizio anche per fare una riqualificazione professionale, gli stessi dopo alcuni mesi possono rientrare in Valle Ufita ed essere i pionieri della reindustrializzazione della fabbrica. Noi questa idea la sottoporremo il 4 di marzo a Del Rosso e credo che ci possano essere le condizioni per ripartire da qui.